Nuova operazione anticrimine ad alto impatto nella provincia di Foggia, 16 in tutto le persone arrestate. Un centinaio di operatori delle forze dell'ordine appartenente alla Polizia di Stato, all'arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza hanno setacciato negli scorsi giorni il territorio eseguendo perquisizioni, ispezioni e rastrellamenti, posti di blocco e controlli ad esercizi commerciali. In particolare gli agenti della Guardia di Finanza hanno individuato nei comuni di Manfredonia, Vieste, Foggia, Sanicandro Garganico e Cerignola 14 persone accusate di percepire indebitamente il reddito di cittadinanza. Nel capoluogo Dauno gli agenti hanno arrestato in flagranza di reato due uomini di 46 e 30 anni, mentre commettevano un furto e danni di un'azienda agricola. Sempre a Foggia, gli agenti della Guardia di Finanza hanno rinvenuto e sequestrato tre manufatti di terracotta risalenti al IV secolo a.C. ed attribuibili alla civiltà Dauna. A San Severo la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 48 anni per il reato di abusi sessuali ed eseguito un sequestro di oltre 100 grammi di ascisce e di 40 grammi di marijuana. A San Giovanni Rotondo i carabinieri hanno arrestato un cinquantenne sorpreso a rubare all'interno del santuario di San Pio il denaro contenuto nelle cassette per le offerte dei fedeli. A Cerignola gli agenti hanno arrestato due ragazzi di 22 e 27 anni, gravemente indiziati di aver consumato due rapine. Gli indagati, dopo aver finto interesse all'acquisto dei prodotti commercializzati su siti internet, pattuivano incontri con la parte venditrice, ma al momento dello scambio si appropriavano con violenza della merce, dileguandosi senza corrispondere il prezzo pattuito.